Buongiorno e benvenuti al quarto episodio di Gtalk. Io sono Marco Burattino e faccio parte di Guidewell. Oggi parliamo di bank assurance e nello specifico di bank assurance in ambito danni, uno dei fenomeni di maggiore discontinuità che abbiamo osservato sul mercato in questi ultimi anni sul mercato italiano. Le banche vendono sempre più assicurazioni danni. Si stima che la market share del 2021 del canale distributivo bancario sul mondo danni ha raggiunto il 7,8%. Rispetto al 2009, dove non era neanche il 3%, è un grosso incremento. Ma se guardiamo un attimo a distanza più avvicinata, nel 2015, a fronte di un mercato danni che complessivamente cresceva del 6%, è cresciuto dell'80% la raccolta del canale bancario. E l'incremento percentuale sembra essere compensato soprattutto a scapito del canale agenziale. Ultimo indicatore, se depuriamo dalla raccolta premi assicurativa danni la componente relativa al mondo RC auto, vediamo che l'attesa sul 2022 di market share del canale bancario arriva fino al 12%, superando la ben nota soglia psicologica del 10% che per esempio il canale diretto non è mai stato capace di superare. La seconda considerazione che viene da fare è che questa crescita non si esaurirà a questo punto, perché ci sono ampie prospettive di miglioramento. Se guardiamo ai cugini d'oltrealpe, ai francesi che hanno cominciato il loro business bank assurance ben prima di noi, vediamo che ad esempio i ricavi in termini di raccolta premio per sportello sono 5 volte maggiori in media rispetto a quelli che vengono presi sui canali bancari italiani. E se poi consideriamo la tavica sotto assicurazione riguardante il mercato assicurativo italiano, che in termini di incidenza sul PIL è alla metà rispetto a quella francese, addirittura meno di un terzo rispetto a quello che accade in Gran Bretagna, capiamo anche il perché dell'attenzione recente da parte di broker stranieri al mercato italiano. Andando a interrogarci inizialmente, prima di approfondire questo tema con l'ospite che abbiamo invitato in studio, il perché le banche vendono sempre più assicurazioni danni, possiamo fare alcune considerazioni. In primo luogo, da tanto tempo lo scenario di tassi di interesse è uno scenario praticamente flat, al netto di quello che sta accadendo nelle ultime settimane, quindi per le banche è diventato sempre meno profittevole negli ultimi anni prestare denaro come elemento di profittabilità e quindi si sono dovute spostare verso attività legate al margine della commissione. Una delle sfide principali che le banche devono cogliere e vogliono cogliere in questo momento è quella di aumentare l'average revenue per user, quindi il livello di ricavo sul singolo cliente. E poi come tutte le organizzazioni complesse di grandi dimensioni e come assistiamo per esempio continuativamente in mercati quali quello della tecnologia con i grandi player, è sempre maggiore la necessità di allargare il campo da gioco, trovare nuovi spazi in cui sostenere il bisogno di crescita che grandi player come le banche hanno. Infine prima di passare alla nostra chiacchierata, vediamo quali sono i modelli di collaborazione che osserviamo sul mercato italiano. Il modello di collaborazione che abbiamo, quello più semplice, quello meno discontinuo, è quello che non fa altro che sostituire il concetto di banca al concetto di intermediario tradizionale. Quindi la banca lavora su provvigioni rispetto a un prodotto assicurativo che è creato da una compagnia con l'obiettivo appunto di estendere la propria offerta. Un secondo modello è quello delle joint venture, modello che in Italia è partito tanti anni fa, come ad esempio con AXA e MPS o che negli anni ha avuto altri esempi come Credit Trust, ovvero una banca e un'assicurazione decidono di creare un terzo soggetto, una new company, con lo scopo specifico di andare a posizionare la loro offerta assicurativa. Terzo modello è il modello Captive. Abbiamo un esempio abbastanza importante in Italia che è quello di Intesa San Paolo Assicura, un modello in cui la banca decide di gestire l'intera catena del valore assicurativa tramite un player ad hoc. Recenti ricerche come quella di Excellence Consulting dicono che questo non soltanto è il modello più diffuso altrove, ma è anche il modello che è fuoriero di maggiori prospettive di sviluppo. Vedremo come si articolerà lo sviluppo di questo business. Ora è il momento di dare il benvenuto al nostro ospite di oggi. Parliamo di questi temi con Gianluca Zanini, partner di Excellence Consulting e pioniere del mercato bank assurance in Italia, essendo stato coinvolto dall'inizio in esperimenti tra i primi che abbiamo visto sul mercato italiano. Ciao Gianluca, grazie di essere intervenuto a questa puntata, è un piacere averti qui con me. Bene, cominciamo con la prima domanda che ti faccio partendo dal punto di vista delle assicurazioni. Andando a guardare il mondo del bank assurance e come l'assetto tra banche e assicurazioni funziona e anche facendo altri esempi come l'avvento dei broker sul mercato italiano degli ultimi mesi oppure fenomeni come l'embedded insurance, la considerazione che fa uno come me, appassionato, tifoso delle assicurazioni, sono tutte quante cose che vanno nella direzione di una perdita potenziale di rilevanza della compagnia assicurativa. Perché in tutti i casi c'è una perdita dell'ultimo miglio, del contatto con il cliente, quindi un minimo si rimpicciolisce la catena del valore appannaggio delle compagnie assicurative. Quindi la mia domanda per te è, in quest'ottica, che futuro vedi e qual è secondo te la posizione che dovrebbero potenzialmente cercare di avere le compagnie assicurative per restare rilevanti, per mantenere il loro ruolo importante o magari accrescerlo? Grazie Marco e buongiorno a tutti. Beh, è una domanda piuttosto articolata in cui probabilmente una risposta precisa oggi non c'è, nel senso che si sta osservando, siamo in un momento di profonda discontinuità oggi, secondo me, nel mercato assicurativo. Perché se proviamo a analizzare la catena del valore dell'assicurazione, lasciamo un attimo stare alla qualità del servizio, quindi tutto il mondo dei sinistri e pensiamo alla vendita e ai prodotti, sostanzialmente l'assicurazione cosa fa? Gestisce il rischio. Quindi, grazie all'analisi del rischio e alla mutualizzazione, trova un premio che fa pagare al cliente. E ha sempre demandato storicamente la relazione col cliente al canale distributivo, quindi agli agenti sostanzialmente, alle banche, nel caso delle banche assicurazioni o alla diretta, nel caso delle dirette. Oggi la tecnologia, ultimamente la tecnologia ha permesso di accorciare la catena fra la fabbrica, cioè fra il prodotto e il cliente. Quindi qual è il modello in questo momento storico che si sta veicolando? Il rischio che tu hai menzionato esiste, perché il canale distributivo che ha il contatto diretto col cliente, grazie alla tecnologia, può enfatizzare il suo servizio verso il cliente. Quindi il rischio della compagnia è quella di rimanere un'america fabbrica prodotto, quindi di fare analisi del rischio e gestione del rischio. È giusto? È sbagliato? Si perde quali sono i pro e contro di un modello come questo? La risposta la vedremo più avanti. Sicuramente io non dico che questo sia un modello perdente. Di sicuro la storia insegna che tanto più sei in contatto col mercato, tanto più è facile per te evolvere. Tanto più tu perdi il contatto col mercato o lo tieni lontano, tanto più la tua capacità di essere innovativo diminuisce. Questo vale per tutti i settori. In questo momento storico sentiamo le compagnie che dicono che gli agenti sono al centro della loro strategia, perché hanno bisogno di questo, hanno bisogno di questo contatto, hanno bisogno di rinforzare grazie alla tecnologia la conoscenza dei clienti. Siamo in un momento storico dove la banca assicurazione, di cui parleremo dopo, diventa un canale estremamente rilevante per le compagnie e per le banche. Basta vedere i piani industriali delle ultime banche che sono emersi negli ultimi anni e mezzo, fa impressione i numeri che hanno messo giù. Veramente può essere un game changer. Quindi la risposta è, io la risposta non ce l'ho, quello che ti posso dire sinceramente è che siamo in un momento di grande rottura e la tecnologia permetterà, asseconderà le scelte che faranno le compagnie di allontanarsi e specializzarsi nella gestione del rischio, oppure di rimanere ancora più forti e orizzontali nella gestione della relazione col cliente. Diciamo che però una nota di positività anche rispetto a questo ruolo, diciamo, dietro le quinte delle assicurazioni che colgo, probabilmente il fatto che probabilmente siamo in un momento di, da un punto di vista di scienza assicurativa, siamo in un momento di crescita, nel senso che oggi prezzare un rischio è un argomento che ha a disposizione nuove, 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 nuovi dati, nuove informazioni, nuovi mestieri. Quindi diciamo anche lo specializzarsi sulla componente tecnica non è qualcosa di banale. C'è una bella strada davanti, è un bel percorso di sviluppo. Andiamo ora invece a vedere, cambiamo il punto di osservazione, andiamo a guardare invece dalla prospettiva delle banche, no? Perché se devo guardare anche qui il bicchiere mezzo vuoto, quello che ho sempre visto da persona che partecipa a progetti o comunque ho sempre percepito, anche leggendo ricerche di mercato, le banche non ne capiscono di assicurazioni, non riescono ad indirizzare i bisogni del cliente che hanno davanti a livello di filiale, c'è grossa preoccupazione da parte di qualsiasi executive bancario nel fatto di riuscire effettivamente a proporre il prodotto assicurativo giusto. Non so la tua esperienza, ma la mia, da quando ho cominciato a lavorare, si è sempre parlato di check-up assicurativi da fare in banca, però non ho mai visto la risposta esatta o qualcosa che ha portato a grossi risultati. Anche qui, un punto di vista che parta dall'osservazione della banca secondo te? Allora, l'assicurazione è un mestiere, è un mestiere estremamente tecnico, no? È un'ingegneria, un'ingegneria pesante dietro e portare semplicità al canale distributivo è uno dei lavori più difficili da fare e quando un canale distributivo come una banca, no? Non ha l'ingegneria come il suo DNA, riuscire a portare questa semplicità al canale che sia in grado poi di trasmetterla ai propri clienti è un lavoro estremamente complesso. Ma la tecnologia oggi aiuta il processo di cambiamento. Quindi tu nella premessa l'hai detto in maniera molto chiara, oggi le banche cercano margine di interesse e le assicurazioni sono molto, fanno protezione, le banche cosa fanno? Proteggono gli investimenti, aiutano le persone a investire al meglio e gestire i risparmi, quindi c'è molta prossimità con la protezione della propria salute e dei propri asset che fa l'assicurazione, quindi c'è contiguità, ma il mestiere è diverso. Quindi come fare a fare in modo che la banca si impadronisca di questo mestiere? È un percorso che non è impossibile, è possibilissimo, ci sono grandi investimenti che oggi come dicevo prima le banche stanno facendo perché, attenzione, qui c'è una parola chiave che è la focalizzazione, quando sei in un momento di grande cambiamento vuoi portare della competenza a un canale che non ne ha di competenza e la vuole avere. Quindi la focalizzazione è la costruzione di strutture organizzative, di processi dedicati, di prodotti adatti a quel canale è fondamentale. Qui poi c'è un tema che le assicurazioni dall'altra parte devono essere in grado ad aiutare il canale distributivo bancario a fare il prodotto corretto, aiutarli a fare i sales pitch corretti, nel veicolare, nello studiare e nello spiegare al cliente da parte di un distributore che ha paura a veicolare un concetto estremamente delicato e complesso come l'assicurazione, qual è il giusto prodotto per tutelare la propria vita e i propri risparmi dei clienti bancari in questo caso. Prima cosa, c'è un tema pazienza? Ovvero questa cosa qua, percepisco, non è una cosa che si fa dall'oggi al domani, no? E torniamo però al solito problema che spesso abbiamo visto anche con i nostri clienti è privilegiare il breve termine rispetto al lungo termine. Questa roba qua non è una cosa che si realizza l'oggi al domani. Assolutamente no. Le banche secondo te in questo momento hanno focalizzato il problema al punto tale da capire che magari i risultati si vedranno in un ciclo più lungo del prossimo anno? C'è questo approccio, lo vedi sul mercato? Sì, sì, assolutamente sì. Cioè rispetto a quando ho iniziato a lavorare in banca assicurazione negli ultimi due anni e mezzo è impressionante il grado di comprensione del valore che l'assicurazione può dare nella creazione del valore per i clienti di una banca e l'hanno percepito tutti. Ribadisco, prendetevi i piani industriali di tutte le banche, dalle piccole alle grandi e vedete dove sta la riga banca assicurazione. Cioè sta o nel secondo posto o al terzo posto massimo e questo vuol dire che nel momento in cui arriva al top of dell'agenda le cose succedono e si fanno. Vanno fatte con metodo naturalmente perché altrimenti il rischio di fail, di fallire è alto perché l'assicurazione non si viene da sola, no? Ha bisogno come abbiamo detto di un processo. Quindi oggi quello che vedo è un'assoluta focalizzazione delle banche nell'imparare e nel veicolare protezione ai propri clienti. Sì, nel modo di farla vedo ancora un po' di incertezza, no? Anche perché la competenza si deve ancora costruire. Nell'ultima ricerca che ho portato avanti sulla parte danni, no? Si vede, ho fatto anche un paragone sul mondo della banca assicurazione danni in Francia che tu hai menzionato. Lì è un per 5 la produttività degli sportelli e il livello di penetrazione dei premi sui clienti rispetto all'Italia. Però è un mestiere che è nato 25 anni fa. Quindi ci vuole un po' di tempo. Non oggi, con la tecnologia di oggi non sono 25 anni, ma sicuramente il modello francese insegna come il canale bancario può essere veramente, probabilmente lo sarà, il vero game changer. Cioè aiuterà le persone a proteggersi di più e quindi anche, secondo me, a diminuire quella sottosecurazione endemica che abbiamo in Italia. Non sarà solo quello, ma farà parte, attore principale di questo processo. Ne sono assolutamente convinto perché la forza propulsiva che può avere una banca nei confronti dei propri clienti è estremamente elevata. E i momenti di contatto rispetto a un'assicurazione tradizionale fa la differenza. Vedi un'evoluzione in termini di tipologia di prodotto. Cioè una cosa sulla quale avevamo anche ragionato insieme in passato era il paradosso della giovinezza, no? Nel senso che le banche oggi come oggi hanno il vantaggio di vendere, anche con gli esempi di embedded insurance, prodotti assicurativi che hanno tipicamente una marginalità, un combined ratio premiante rispetto a quelli che sono i prodotti assicurativi veicolati, danni veicolati dai canali tradizionali. Se cominciano a vendere di tutto, probabilmente il primo impatto che avranno le banche magari saranno volumi più alti in una marginalità più bassa? Allora, questa è una bellissima considerazione che proprio emerge nell'analisi della redditività delle compagnie di banca assicurazione, no? In cui si vede proprio come, perché questo grande interesse delle assicurazioni a fare accordi con le banche? Perché la redditività delle compagnie di banca assicurativa è estremamente alta, è estremamente alta, il combined ratio è estremamente più basso rispetto a quello delle compagnie tradizionali e quindi il paradosso della giovinezza come tu l'hai menzionato è estremamente corretto. Di solito quando sono dei business giovani sono meno redditivi, in questo caso i business giovani sono più redditivi, anche perché il ciclo di vita dei sinistri è più lungo, no? E poi la logica del prodotto bandellizzato a un prodotto finanziario sostanzialmente ha una frequenza che è più bassa rispetto alla tipica assicurazione veicolata tramite il canale tradizionale. Infatti se tu vedi quella che è la redditività delle compagnie banche assicurative francesi sono assolutamente allineate al mercato, perché sì più produttività, sì più grande penetrazione sulla base clienti, ma redditività che è pari a quella del mercato, quindi fai più premi ma alla fine hai un combined ratio che è appena sotto al 100, no? Questo rappresenta secondo me un ciclo quasi inevitabile, anzi quasi misura il successo di un percorso di banca assicurazione, quando tu diventi a linee quelli che sono gli indicatori di mercato, no? In termini sia di produttività che naturalmente di profittabilità. Arriviamo al terzo punto, noi generalmente in questo format la terza parte, la terza domanda è dedicata a cercare di guardare in una palla di cristallo e chiedere al nostro ospite delle prospettive, di scommettere i suoi 5 euro virtuali su uno scenario. Allora io prima dell'introduzione ho citato qualcosa che ho letto nel vostro studio relativamente al fatto che il modello tra quelle tre famiglie di modelli che avevo menzionato, quindi partnership commerciale, joint venture e modello captive, il terzo sembra essere il modello più promettente. Mi puoi dire qualcosa rispetto a questa considerazione e sostenerla anche rispetto a... Allora, sì, nel nostro studio emerge chiaramente che la profittabilità e il livello di commissioni per la banca è più alto rispetto, se noi mettiamo al numeratore le provisioni banca assicurativa, assicurative e al denominatore le commissioni attive, vediamo che il modello captive è quella che paga di più la rete. Sostanzialmente perché? Perché c'è un allineamento strategico da un lato verticale perché fanno parte tutte dello stesso gruppo, primo elemento, secondo elemento è perché per aumentare il livello di produttività la compagnia interna deve paga più commissioni al canale fisico, quindi al canale alla banca, alle filiali, fra virgolette, e quindi per aumentare il livello di produttività, no? E quindi per stimolare la venda di questi prodotti. Quindi ecco perché le commissioni banca assicurative rispetto a quelle attive in quel modello sono più ampi. Però naturalmente non tutte le banche si possono permettere di internalizzare una fabbrica prodotto perché gli investimenti, Intesa lo insegna vedendo quanto è investito nelle evoluzioni di Intesa Sicura e Intesa Vita, quanto è investito nell'acquisizione di RBM Salute sul mondo della salute, quanto è investito in Cargias, non tutte le banche si possono permettere di investire in questo modo, anzi molto poche. E poi ci sono gli altri due modelli, quello della joint venture e quello dell'accordo distributivo. L'accordo distributivo è sicuramente più snello per quanto riguarda le banche di taglio medio-piccolo, no? Dove sostanzialmente l'assicuratore porta tecnologia e competenza e paga molto la rete perché non ha impegno di capitale nella banca. E sulle banche piccole che non si possono permettere grandi investimenti è un modello che in alcuni casi funziona anche molto bene. Soprattutto adesso che c'è un allineamento strategico, cioè anche le banche medio-piccole hanno capito che l'assicurazione non è un qualcosa che tu possa prendere lateralmente ma diventa al top 3 dell'agenda anche dei piani strategici delle piccole banche. Poi ci sono le joint venture che invece vanno sia dalle grandi banche che delle medie banche sostanzialmente. Questo modello che io conosco estremamente bene, ho lavorato in Exa Montepaschi, è stata una delle più grandi joint venture nel campo della banca assicurazione. Lì, che siamo partiti nel 2007, lì quello che emerge chiaramente è, io lo chiamo il modello, non so se ti ricordi, IBM con Intel Inside, no? Cioè permettere al cliente di dire IBM è il mio PC, quindi la mia rete, il mio cliente è la banca, ma la competenza è di un grande assicuratore. Quindi riuscire a passare un messaggio dove la competenza tecnica lo fa chi fa questo mestiere. Quindi è un modello che funziona. Perché paga un po' meno di commissioni? Perché naturalmente in fase di negoziazione fra banche e assicurazione, tanto più la compagnia paga commissioni, tanto meno l'utile diminuisce, quindi la spartizione degli utili può essere diversa. Quindi si trova un equilibrio su quanto pago la rete rispetto a quanto mi porta a casa in termini di utili. Quindi in termini di modelli tutti e tre vanno bene, ma va compreso qual è la forza propulsiva della banca di riferimento e la capacità dell'assicurazione di assecondare e di andare dietro a quello che è le esigenze che la banca ha con la sua base clienti e col suo territorio di riferimento. Ok. Domanda conclusiva, diciamo. Secondo te, no? Guardiamo il vocabolario. Oggi esistono le banche e le assicurazioni. Tempo dieci anni da ora. Esisteranno ancora le banche e le assicurazioni o esisteranno le istituzioni finanziarie? Le previsioni a dieci anni faccio una fatica della mia idea. No, nessuno fa il gioco. Allora, io rispondere, penso che la maniera più onesta per rispondere a questa domanda sia questa. Che l'assicurazione, ribadisco quello che ho detto all'inizio, è un mestiere con una grande competenza tecnica. Che si chiami assicurazione, protezione finanziaria, protezione della persona, creazioni di ecosistemi sulla casa, sulla vività della salute, può chiamarsi in diversi modi, ma sostanzialmente quel mestiere rimarrà. Cioè il fatto di riuscire a costruire, apprezzare il rischio, che è la competenza dell'assicurazione, rimarrà diverso da quello di oggi, perché oggi è un rischio che si basa su base storiche, domani già oggi si inizia a vedere tutto il mondo dei big data, dei dati, si permetterà di mutualizzare il concetto di mutualizzazione, secondo me, io voglio essere provocativo, nelle assicurazioni scomparirà. Questa è una cosa che già dissi a diversi convegni qualche anno fa, lasciando un po' le persone stupefatte, perché il concetto di assicurazione si basa al concetto di mutualizzazione, no? Cioè io e te corriamo un rischio, paghiamo un po' un premio e io pago un po' il danno che succede a te. Ma la domanda è, nel momento in cui i dati mi permettono di comprendere perfettamente la tua vita, i rischi che corri e quindi prezzarli a un premio puro, perché conosco molto bene i rischi che corri, capisci che la mutualizzazione non inizia ad avere più senso, perché tu c'hai un prezzo del tuo rischio, io c'ho il mio e lo sarò, lo conosco. La mutualizzazione succedeva quando non li conoscevo queste informazioni, quindi avevo bisogno di mutualizzare. Naturalmente per i grandi rischi catastrofali o cose così rimarrà, però sulle persone fisiche c'è da chiedersi se il concetto di mutualizzazione rimarrà oppure no. Analisi predittive vanno nella direzione di prezzare il rischio della singola persona. Quindi, risposta, sui modelli organizzativi ci sarà una grandissima evoluzione, soprattutto nell'interazione col cliente finale, no? Ma il mestiere assicurativo rimarrà centrale e rimarrà 10, 20, 30 anni, perché prezzare, ribadisco il rischio, è una scienza. Certo, d'accordo. Va bene. Gianluca, grazie mille. Grazie a voi. Oltre a divertirmi mi hai anche insegnato qualcosa, quindi ti ringrazio molto per essere stato presente. Noi chiudiamo qui la quarta puntata di Gtalk, spero vi siate divertiti e ci vediamo alla prossima. Grazie. Grazie.